Anche oggi abbiamo parlato di RSA, anche oggi abbiamo parlato di vittime e qualcuno potrà ricordare che si tratta di anziani. Ebbene, il fattore umano è quello su cui cerchiamo di attirare sin dall'inizio la vostra attenzione, sin dall'inizio di questa epidemia e mai abbiamo potuto sentire le voci di quegli anziani. C'è oggi la possibilità di farlo, stavamo già per farlo, attraverso una lettera che in maniera fortunosa è pervenuta ai familiari di un anziano che se ne è andato in una di queste RSA. Qui non conta come si chiamasse qual era la casa che lo ospitava. È importante ascoltare una testimonianza, sentire una volta tanto uno di loro, anche se lo possiamo fare solo in modo postumo. Da questo letto senza cuore scelgo di scrivervi, cari miei figli e nipoti. L'ho consegnata di nascosta suor Chiara, nella speranza che dopo la mia morte possiate leggerla. Comprendo di non avere più tanti giorni. Dal mio respiro sento che mi resta solo questa esile mano a stringere una penna ricevuta per grazia da una giovane donna che ha la tua età, Elisa mia cara. È l'unica persona che in questo spizio mi ha regalato qualche sorriso, ma da quando porta anche lei la mascherina riesco solo a intravedere un po' di luce dai suoi occhi, uno sguardo diverso da quello delle altre assistenti che neanche ti salutano. Non volevo dirvelo per non recarvi dispiacere su dispiacere, sapendo quanto avrete sofferto nel lasciarmi dentro questa bella prigione. Sembra infatti che non manchi niente, ma non è così. Manca la cosa più importante, la vostra carezza, il sentirmi chiedere tante volte al giorno come stai nonno. Gli abbracci e i tanti baci, le urla della mamma che fate dannare e poi quel mio finto dolore per spostare l'attenzione e far dimenticare tutto. In questi mesi mi è mancato l'odore della mia casa, il vostro profumo, i sorrisi, raccontarvi le mie storie e persino le tante discussioni. Questo è vivere, è stare in famiglia con le persone che si amano e sentirsi voluti bene e voi me ne avete voluto così tanto non facendomi sentire solo dopo la morte di quella donna con la quale ho vissuto per 60 anni insieme, sempre insieme. Quanti grazie, dovrei dire, un'infinità a mia moglie per avermi sopportato, a voi figli per avermi sempre perdonato, ai miei nipoti per il vostro amore incondizionato. Non è stata vostra madre a portarmi qui, ma sono stato io a convincere i miei figli, i vostri genitori, per non dare fastidio a nessuno. Certo non potevo mai immaginare di finire in un luogo del genere. Apparentemente tutto pulito e in ordine, ci sono anche alcune persone educate, ma poi di fatto noi siamo solo dei numeri. Per me è stato come entrare già in una cella frigorifera. In questi mesi mi sono anche chiesto più volte, ma quelli perché hanno scelto questo lavoro se poi sono sempre nervosi, scorbutici, cattivi? Ma vorrei che sappiate tutti che per me non dovrebbero esistere le case di riposo, le RSA, le prigioni dorate e quindi, sì, ora che sto morendo lo posso dire, mi sono pentito. Se potessi tornare indietro, supplicherei mia figlia di farmi restare con voi fino all'ultimo respiro. Almeno il dolore delle vostre lacrime, unite alle mie, avrebbero avuto più senso di quelle di un povero vecchio, qui dentro anonimo, isolato, è trattato come un oggetto arrugginito e quindi anche pericoloso. L'altro giorno l'infermiera mi ha già preannunciato che se peggioro forse mi intuberanno o forse no. La mia dignità di uomo, di persona per bene, è sempre gentile ed educata, è stata già uccisa. Sai, Michelina, la barba me la tagliavano solo quando sapevano che stavate arrivando e così il cambio. Ma non fate nulla, vi prego, non cerco la giustizia terrena. Fate sapere però ai miei nipoti e ai tanti figli e nipoti che prima del coronavirus c'è un'altra cosa, ancora più grave, che uccide. L'assenza del più minimo rispetto per l'altro, l'incoscienza più totale. E noi, i vecchi, chiamati con un numeretto, quando non ci saremo più, continueremo dalla sua a bussare dal cielo a quelle coscienze che ci hanno gravemente offeso, affinché si risveglino, cambino rotta, prima che venga fatto a loro ciò che è stato fatto a noi. Non aggiungiamo niente, sarebbe retorica aggiungere. È una voce, gli addebiti, questa è l'immagine insoggettiva di chi lascia la vita da una RSA. È stato pubblicato dal sito interris.it, ripreso da Famiglia Cristiana.